Ciao bella gente, oggi sono con un'amica, abbiamo portato i cagnolini in mezzo al campo, mezzo il verde, mezzo la montagna, mezzo l'acqua, un posto meraviglioso, vi scriverò sotto come si chiama, mi sta finendo la carica nel telefono e quindi spero che vi piaccia il mio video e niente, a dopo! A presto! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 non entro se vuoi tanto che non entro vieni qua mostro è nero amore leone gioia bravo alessia e leone e poi attacca leone e lo morde delle gambe si mami tutti i giovedì la porto che io la separò ora guapo ora guapo ora buon dia un pezzo di pelo di pali gliel'ha strappato sicuro mostro è dello stesso colore andiamo di qua giù mami scendiamo con questa discesa cari oramai già arrivata perché lei adora l'acqua infatti ah c'è il percorso di qua lei oramai scesa la lei adora l'acqua però questa qua c'è un po' troppo a corrente l'acqua sarà fredda non è fredda è congelata l'acqua però dopo ti senti proprio le gambe e i piedi super tonificati le formiche vero eh tutte le formiche della circolazione bellissimo gli aghi come siamo passati da opa cado a questo percorso super fitto a questo percorso adesso sgancio leone che i vecchi si sono allontanati a parte che io ho l'assicurazione quindi leone all'attacco infatti quando ci sono i rompecoglioni all'attacco a questo percorso a questo percorso Spero che vi è piaciuto il mio video e niente, mettete mi piace, seguitemi sul mio canale e per qualsiasi richiesta, informazione iscrivetemi. Ciao bella gente!